Qui abbiamo due altre signore italiane, in questa struttura, in questa festa fatta per gli italiani che abitano qui anche loro, voi se italiani anche voi immagino, ecco, si vede. Qui abbiamo invece il nostro Michele Castegnano, uno dei collaboratori di Africa Express e che quindi potete vedere su questo video, qui invece abbiamo Bruno Giacchino che è il capo del Covites e questo è uno appunto dei protagonisti di questa serata che vede tutti gli italiani invitati a celebrare la fine della settimana della culinaria italiana, della cucina italiana. Io penso che ogni nazione ha un piatto tradizionale, lo identifica la nazione. Noi abbiamo la tradizione dei piatti. Buona questa, sì, certo. Infatti sono molto amati, la cucina italiana è comunque una delle più amate al mondo. Ecco, e anche qui sta sfondando molto anche in Kenya dove i ristoranti italiani e nerobici contano ormai a decine. Ecco, ecco, gli italiani è la seconda comunità straniera anaerobica. liberafrica-express.info Massimo Alverizzi